Mi fa piacere salutare una persona che per aiutare i bambini ucraini, soprattutto i più fragili, è partita con un'equip specializzata dall'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, è andato in Polonia e la Polonia sappiamo che è una delle nazioni che sta accogliendo di più in questo momento. Vado a salutare il dottore Andrea Moscatelli, direttore del Dipartimento di Emergenza e la Terapia Intensiva Neonatale Pediatrica. Ben trovato. Buonasera. Come sta innanzitutto? Quanto è provato? No, ma noi stiamo bene. La grande sofferenza è di questa popolazione. Come voi accennavate prima, noi siamo qua con una missione della protezione civile, perché una catastrofe di queste dimensioni può essere assorbita solo a livello nazionale. Prima di noi c'è stata la Lombardia, dopo di noi arriverà la Toscana. E noi stiamo cercando di gestire... Dove siete esattamente, dottore? Siamo a Reshov, che è l'aeroporto più vicino al confine ucraino, su una linea autostradale che porta abbastanza direttamente verso Leopoli. E sul confine ci sono circa otto varchi, dove i polacchi hanno allestito dei centri di accoglienza. I bambini arrivano o direttamente a Reshov o arrivano nei centri di accoglienza, dove noi a volte andiamo poi a recuperarli. E voi siete lì per fare esattamente cosa? Per organizzare l'evacuazione medica attraverso aerei che vengono coordinati dalla Centrale Remoto Operativa per il Soccorso Sanitario di Pistoia verso gli ospedali italiani. Quindi i pazienti vengono poi ridistribuiti in base alle disponibilità che sono state date su tutti gli ospedali italiani. E si tratta per adesso di bimbi prevalentemente oncologici, perché sapete che purtroppo l'Ucraina ha un'incidenza di tumore infantili altissima. Qui c'è una ONGUS che opera da anni, che è la Fondazione Sole Terre, ma i pazienti arrivano anche attraverso altri canali. E la grossa complessità è quella di gestire la logistica, quindi l'accoglienza qui, e poi il trasporto verso l'Italia. Devo dire che c'è stato uno sforzo enorme. E quindi stiamo parlando di bambini che perlopiù sono bambini oncologici e che chiaramente non possono essere curati lì dove sono. Esattamente. E richiedono un trasferimento. Certo, stiamo intercettando bambini che possono arrivare al confine su autobus o su treno. Il dramma è che noi non abbiamo alcuna idea di quanti sono i bambini feriti e come possano questi bambini feriti essere trasportati in Italia. Io sono un anestesista rianimatore, quindi potremmo anche gestire il trasporto di pazienti critici. Purtroppo questi bambini non arrivano al confine, perché non è possibile trasportarli all'interno del paese. Fino a Dovera sono stati portati in Italia. Cioè lei ci sta dicendo che i bambini che arrivano sono solo quelli che erano già malati, malati oncologici, che sono stati spostati in qualche modo dall'evacuazione dagli ospedali, immagino? E quindi sono arrivati al confine. Ma che i bambini feriti, quindi con trauma per esplosione di un razzo, di una mina o di cose di questo tipo, lei non ne ha visti perché non arrivano al confine? Esattamente, esattamente questo è il tema. Il drama delle guerre. Abbiamo provato a contattare le società scientifiche ucraine per cercare di capire se c'è un fabbisogno, la possibilità di portarli verso il confine, ma in realtà è molto difficile tenere i contatti. Tenete presente che... Ma poi avete notizia che questi bambini ci sono e che però sono negli ospedali, nelle varie città ucraine? In questo momento? In realtà si sa molto poco. Si sa molto poco. Immaginiamo che non possano non esserci feriti di guerra, però sappiamo molto poco. Tenete conto che le immagini che sono state proiettate al congresso americano, che potevano suonare un po' come propaganda, in realtà sono molto vere. Gli ucraini hanno dei canali telegram su cui condividono immagini... Le immagini di cui parla il dottore, lo dico per chi ci segue da casa e si fosse perso quel passaggio, sono le immagini che Zelensky ha portato al congresso americano. Lui si è collegato e ad un certo punto ha detto che ci stanno facendo questo. Ha detto anche che sono tre settimane che loro vivono un 11 settembre, che quell'11 settembre che loro stanno vivendo da tre settimane ha prodotto, dice, questo. E ha mandato delle immagini, devo dire, immagini molto molto dolorose, già solo a guardarle. Anzi, se le recuperiamo e se ce le abbiamo, magari una parte la possiamo far vedere. Dottore, la febbra...